Ciao, ciao Grace! Oggi faremo un video bellissimo! Allora, vedete che c'è un ostacolo? Salteremo l'ostacolo a framezzo e centreremo un cerchio. Quando vede fatto tutto e un giro, chi riesce ovviamente così? Alziamo l'ostacolo! Divertentissimo! Vai! Chi inizia? Io! Allora, Giadi! Giadi! Grace, vieni qua con me! Mi raccomando, i nostri amici, adottate! Adottate! Adottate i cagnolini! Salvateli! Brava! Giadi ce la fa! Scagnolini, gattini! Vai! No, lascia qua, va bene! Sta qua vicino a me! Camilla! Beh, come facciamo? Eh, non ce l'hai fatta! Ma non ce l'hai fatta! Ma sei arrivata a mani e piedi? Eh? Ma come non lo sapevi? Lo facciamo rifare alla Camille? Dai! Camilla, vieni qua a fare il giudice con me! Brava Erika! Ce l'ha fatta l'Erika! Camilla, sei un giudice spietato! Vieni qua vicino a me! Ok! Brava, Grace! Anche tu! Perfetto! Aiuto! Brava, Marti! Emma Fadda! Vedo solo la testa! Ce la fa! Sì! La tizia ce la fa! Bra! Lascia tremare indietro! Eh! È vero, lì così! Però ce l'ha fatta, dai! Allora aspetta! Camilla, vai tu a tenere il cerchio! Ma ti mi dico, però ma tieni in bella! No! Solo perché sono cadena! Sì! Vai Camilla, stendi le braccia, che ci deve essere un metro di distanza! Bravissima, Marti! Manca, mi call! No, no, lo tiene la Camille, tanto lei ha finito! E' brava, Michi! Ok! Ah, ma anche tu, Emma! Cominciamo ad andare a prendere uno step per alzare l'ostacolo! Vai, Emma! Sì! Vai, alziamo l'ostacolo! E abbiamo alzato il tappeto! Brava! Eh, no, purtroppo no! Non era un fra mezzo! Ciao, Erika! Allunga le braccia, Camille! Spassalo un po' più avanti! Verso di me! Verso di me! Vai! Per poco, ma ce l'hai fatta! Ma ce l'hai fatta! Sì! Vale, sì, ci sei passata! Però è passata fra mezzo e è passata nel cerchio! Non è passata nel cerchio, Camilla! Vai! Chi va? La fila! Vai, Marti! Giusto! Sì! Brava! E sì, perché deve essere un fra mezzo giusto! Bravissima! Irene! Nicole! Facciamo cambio! Erika, ti... Brava! Erika, ti rito il cerchio! Perché la Camilla non ce la faceva più e tra un po' si piegava in due! Te lo dico io se sei centrata! Brava! Fatto tutto, eh? Vai, alziamo di uno! Allora, adesso diventa diventando altissimo! Speriamo che gli step non scivolino! Ti vedo, Giardi, vai! Ti vedo, Giardi, vai! Vai! Uhuh! Bravissima! Irene, sei preoccupata? Sì! Pronto! C'è qualcosa? Faddi! Faddi! Brava! Sembra più semplice, ho detto che più alto! Chi è che sta per partire? Vai, Letizia! Bravissima! Chi va? Ire! Ire! Vai, Ire! Top! Aiuto! No, no, sta partendo! Aiuto! Vai, Ire, vai! Bravissima! Sta diventando troppo alto, però, eh? No? Brava! E questo? Bene, mi è rimasto in mezzo. Ho fatto che... Però ho fatto come l'avete inizio, sì. Ok! Vabbè, io chiedo per essere corretta, eh! Bravissima! Sento ci diamo in mogna perché siamo noi giudici! Non scherzo! Brava! Mi sembra troppo facile sto video, pensavo fosse difficile. E Camilla, ma perché ne hai sbagliato il primo? Ma non è colpa mia, io non so più come devo andare avanti. Irene sta già preparando due step. Yuhuu! Ho preso dentro le ginocchia! Brava! Alziamo! Mamma, ragazze, è altissime! Ma non è pericoloso? No! No! E' altissimo! Chi è che sta per partire? E no, io non vedo niente. Vedo solo il risultato io. Io vedo solo l'allarme incendio. Vai! Ha tenuto un po' le braccia. Ha fatto il cuore finito. È vero. È un po' alto, eh. Pericoloso? No? Lo facciamo lo stesso? Vediamo. Vai, Irene! Vai, Irene! Yuhuu! Wow! No, ma devo andare a vedere di fianco perché è veramente altissimo, ragazzi, eh. Vediamo. Vediamo. Mamma mia, è alto come l'è, Emma! Brava! Martina. Letizia! Passate di lato? Marti, mi raccomando, se cadete si rotola senza mettere giù le braccia, eh. Irene, tu non vai? No, non ho già fatto. Ah! Uh! Ecco, appunto, ho detto da apposta, eh. Nicole? Tu hai già fatto così alto? Sì. Ma veramente? L'ho fatto finito dopo di me. Ah! Nicole? Mamma mia! Bravissime! Chi è l'ultima? Te? Bella! Emma! Ma non ho fatto facile. No, no, sì, sì. No, no, sì, sì. No, Irene, basta così. Avete vinto. No, no, sì, sì. Uh! 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 Bravissima! Questo video è terminato, ragazzi, avete vinto perché è troppo alto. Sì, sì, sì. Sì, sì. No, basta. Dopo ci vogliono altre protezioni. Lo facciamo in buca. Facciamo le polizioni e non lo facciamo in buca. Lo facciamo in buca! No, 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 no. No! Ah! Vieni qua, vieni! Dai, saluta! Ma ti sei benvenuto! Devi vinci! Hai vinto! Anche le altre! Hai vinto! Eh, allora… È una vittoria di squadra! Anche io vincolo! Speriamo che questo video vi sia piaciuto Ti sei divertita? Sì Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale Lasciate tanti like E ricordatevi di attivare la campanellina Per ricevere tutte le notifiche dei nostri nuovi video Ciao Ti sei divertita Cami? No